Il fuoco, ci accendiamo, unito all'acqua del mare che bagna la nostra regione, simboleggia l'eterna unione. A noi piace definirci come una forza armata che lavora con la gente tra la gente. Oggi, una volta di più, dimostriamo il nostro desiderio di essere fra voi, di essere tra i giovani, di essere tra coloro e quali rappresentano il nostro futuro. Ancora una volta, ben amiciziai che pari, buon campionato, viva lo sport, viva la Puglia, viva l'Italia. Grande momento di contatto tra i ragazzi, di farsi conoscere gli uni con gli altri. Lo sport è qualcosa che deve unire anche nella sana competizione. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare e per questa ragione abbiamo creato un evento di grande coralità. 20 regioni presenti, circa 600 ragazzi con gli accompagnatori di tutta Italia, con la loro voglia di essere primi, ma soprattutto di stare insieme. Vengono da tutta Italia, senza differenze, unite dalla passione per la pallavolo. E poi ad agosto abbiamo la qualificazione agli Olimpiadi con la nazionale italiana che si gioca una chance per partecipare al torneo sportivo più bello al mondo. Buon partito! Buon partito! Buon partito! Lasciatela ballà, lasciatela ballà, lasciatela ballà, sfida e zatella. Cadena la tarap, cadena la tarap, cadena la tarap, sotto all'uvera. Come dice, scende bella vizio da vita, qui si merda, questa rita, cristiana. Guri 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 G